Dottore Nacci, ancora sui vaccini che dovrebbero essere somministrati anche dai medici famiglia o dai medici di medicina generale più correttamente, ma ancora questo servizio non parte. Perché? Per quanto riguarda la vaccinazione noi siamo qua. Aspettiamo una convocazione dall'ASP. Ho chiesto un incontro ufficiale al commissario ma non mi è arrivata nessuna risposta. Noi abbiamo firmato il 13 di marzo un accordo regionale dove si prevede appunto il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella vaccinazione. E' logico devo dire ai cittadini che la partecipazione è facoltativa perché ci sono medici che magari non desiderano per diversi motivi di non vaccinare per cui possono tranquillamente andare i pazienti presso altri medici. Però il problema grosso è uno, abbiamo noi richiesto di vaccinare presso gli abbe vaccinali. Questa risposta non è arrivata mai. Nei nostri ambulatori esistono delle criticità, problema di conservazione e altre cose, per cui dobbiamo risolvere a più presto. Noi desideriamo essere presenti in questa vaccinazione e sono convinto che con l'aiuto dei medici di medicina generale noi riusciremo veramente a coprire molto della popolazione. Non capiamo sia a livello provinciale che a livello regionale perché le aspe continuano a non darci retta, a non convocarci per far sì che noi possiamo assolutamente vaccinare i nostri e anche i pazienti di tutti gli altri medici.